Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, ha incontrato in Vaticano il suo omologo della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Il faccia a faccia, durato circa 45 minuti, arriva dopo le tensioni delle ultime settimane sui rapporti con la Cina. A innescarle un articolo scritto da Pompeo, nel quale il segretario di Stato invitava la Santa Sede a non rinnovare l'accordo parziale sulle nomine episcopali, siglato due anni fa con Pechino ed in scadenza ad ottobre, affermando che in questo modo la Santa Sede metterebbe in pericolo la sua autorità morale. Pompeo non ha incontrato il pontefice che a un mese dalle presidenziali americane ha preferito evitare una possibile strumentalizzazione in chiave elettorale. La Cina dunque è stato l'argomento divisivo nei rapporti tra il segretario di Stato americano Pompeo e la Santa Sede che però ha precisato che lo scambio sulle relazioni con la Repubblica Popolare Cinese è avvenuto in un'atmosfera di rispetto. L'Italia però si conferma al centro di questo fuoco incrociato tra Stati Uniti e Cina per quanto riguarda il settore degli investimenti sulle tecnologie 5G che sicuramente sono sempre più determinanti per lo sviluppo delle economie dei singoli paesi. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.